Musica Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro PrimaTG in apertura le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che si è rivolto alla popolazione tutta con un messaggio sui social sono tanti mesi che siamo impegnati con piccoli e grandi sacrifici nella battaglia contro il Covid ha detto il Premier, la nostra comunità pur tra mille difficoltà è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e grande senso di responsabilità sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane in occasione delle festività natalizie dobbiamo continuare ad impegnarci e mantenerci vigili per contrastare il contagio e predisporci per aderire a quella che è la campagna di vaccinazione sarà una mobilitazione che coinvolgerà tante piazze italiane e che sarà identificata con il simbolo della primola il fiore, il primo a sbocciare dopo un lungo inverno ha detto il Premier, accompagnerà simbolicamente tutte le fasi della campagna verso quello che è un risveglio graduale della nostra vita sociale questa volta la sua rinascita sarà anche la nostra continuiamo a parlare del tema Covid perché le immagini degli assembramenti delle grandi città durante la giornata di domenica hanno creato più di qualche preoccupazione tra i membri di governo rendendo necessaria nella serata di domenica la convocazione di una riunione d'emergenza tra i vari scenari che sono stati predisposti c'è un cambio di idea rispetto a quanto è stato indicato nel DPCM che aveva previsto la zona gialla per tutto il paese dal 21 di dicembre fino al prossimo 6 di gennaio la nuova idea, citano fonti di Palazzo Chigi è quella di prevedere tutta l'Italia in zona rossa o arancione in particolar modo per la settimana dal 24 al 31 senza escludere poi quello che è il periodo dell'epifania dovrebbe però essere consentita una deroga per i piccoli comuni con la possibilità per gli abitanti dei paesi sotto le 5.000 persone di potersi spostare nel raggio di 30 km la protezione civile ha diramato quello che è il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul nostro territorio nell'ultima segnalazione si conferma il trend dei positivi con 17.938 nuovi contagiati 484 morti e 16.270 guariti i tamponi processati sono stati 152.697 per un tasso di positività in risalita rispetto ai giorni precedenti con l'11,7% è importante però come si diceva la discesa sia dei posti letto per quanto riguarda le terapie intensive con meno 41 unità sia quelli che è dei ricoveri ordinari con meno 331 posti letto occupati per quanto riguarda invece l'unità di crisi della regione Campania sono stati certificati 1.219 nuovi positivi di cui 92 sintomatici a fronte di 17.319 tamponi processati anche qui il tasso è in continua discesa siamo arrivati al 7% i guariti sono stati 2013 e i deceduti 35 di cui 15 nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza ma registrati soltanto ieri per quanto riguarda invece il report di posti letto a disposizione della regione su 656 posti di terapia intensiva disponibili ne sono occupati 134 mentre invece su 3.160 posti messi a disposizione tra strutture pubbliche e private ne sono occupati 1.804 restiamo in Campania perché nella serata di domenica il presidente della regione Vincenzo De Luca è intervenuto presso la trasmissione che è tempo che fa in onda su Rai3 condotta da Fabio Fazio ha iniziato il suo intervento il governatore parlando di linguaggio di verità ovvero che è difficile pensare di non poter vivere un Natale come tutti gli altri ma un Natale normale significherebbe aprire le terapie intensive e i cimiteri a metà gennaio il governatore ha anche parlato di quello che è l'algoritmo utilizzato dall'esecutivo da fonti del governo per l'assegnazione dell'Italia nelle diverse fasce di rischio ha detto si tratta di uno strumento inconoscibile citando Kant ci sono regioni del nord che si trovano in fascia gialla con tassi di terapie intensive e contagi più alti della Campania stiamo parlando di una marchetta il presidente ha anche detto che si attende due settimane decisive perché senza rigore ci sarà una terza ondata che sarà ancora più virulenta rispetto alle precedenti non solo per la riapertura delle scuole che ricordiamo fonti di governo prevedono per il prossimo 7 di gennaio ma anche perché a gennaio è atteso il picco dell'influenza il presidente è contrario comunque alla riapertura della mobilità comunale ed è previsto per la regione Campania i divieti che sono già stati indicati tra cui l'impossibilità di potersi spostare nelle seconde case nel periodo natalizio De Luca ha detto che si attenderà un 20% di irresponsabili che organizzeranno feste e cenoni con oltre 30 persone ed è un rischio che comunque la regione Campania sa di correre per quanto riguarda invece i fondi del recovery fund il presidente De Luca ha detto che dovrebbero essere utilizzati questi oltre 200 miliardi a disposizione dell'Italia per sburocratizzare il paese e inoltre ha lanciato un allarme il presidente perché i contributi a fondo perduto proprio del recovery fund sono destinati in gran parte alle regioni del nord ed è previsto un incontro tra i presidenti del meridione per cercare in qualche modo di capovolgere questa particolare situazione ed è lo stesso presidente della regione che ha firmato l'ordinanza con cui è stata prorogata la zona rossa per il campo rom di Napoli circunvalazione esterna nel provvedimento prevede che per i cittadini che hanno residenza dimora o domicilio presso il campo è fatto obbligo di isolamento con divieto di allontanarsi dalle proprie abitazioni salvo quelle che sono esigenze sanitarie o legate all'acquisizione di beni di prima necessità potranno accedere nel campo solo gli operatori sanitari e sociosanitari del personale impegnato nei controlli e attività di assistenza solo per quelle che sono le attività strettamente legate a queste misure e le attività di pulizia e sanificazione ambientale il Comune di Napoli di intesa comunque con l'unità di crisi e la protezione civile assicura ogni forma di assistenza ai cittadini del campo anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata del presente provvedimento che ricordiamo resterà in vigore almeno fino al prossimo 19 di dicembre continuiamo a parlare di Napoli ma ci spostiamo in provincia affrontiamo il tema della cultura con una scoperta particolare che riguarda Pompei perché si facevano risalire le origini di Pompei a Yoshi una popolazione del ceppo sannitico della campagna preromana ma in realtà sarebbe avvenuto almeno 700 anni prima con un mistero legato appunto alle origini che in realtà sarebbe stata un po' dissolta la nebbia sulla fondazione della storica città attraverso le ultime campagne di scavo che sono state avviate nel parco archeologico che è patrimonio dell'umanità ne ha parlato il direttore del parco Massimo Osanna che ha affermato che in realtà sarebbero stati gli etruschi molto prima che Pompei diventasse una colonia romana a fondarla dandole forma con le mura organizzando le strade come già era stato effettuato per Tarquini Aveio e Cerveteri dunque uomini etruschi avrebbero fondato i primi santuari a partire da quello fuori città che portava poi al porto di Stabie uno snodo importante per i traffici commerciali a confermare diciamo questa che è l'ipotesi di fondazione etrusca spiega Osanna sono innanzitutto degli oggetti molte anfore vasi e ampolle tra cui 70 coppe con iscrizioni ritrovate nello scavo del santuario che è stato costruito lungo la città che collegava che si collegava al mare nonché una costruzione a pianta rettangolare in quello che si identifica come fondo iozzino il tempio era stato individuato già negli anni 60 e scavato negli anni 90 ma i reperti più interessanti sono emersi dallo scorso 2014 un ritrovamento sottolinea il direttore che fa di Pompei il luogo che ha restituito il maggior numero di iscrizioni etrusche fuori dall'Etruria proprio perché su questi oggetti di cui parlavamo ci sono tantissimi graffiti con frasi rituali accompagnate dal nome di chi ha fatto l'offerta e sono pratiche proprio che venivano effettuate dagli etruschi e anche la divinità onorata che appare con il nome generico APA sembra rimandare a culture religiose etrusche un'evidenza particolarmente importante che in qualche modo potrebbe cambiare un po' quella che è sempre stata la storia di Pompei il tutto naturalmente fino a poi a quello che è stato l'anno tragico per la città il 474 che ha causato un po' quella che è stata la fine della prima Pompei non per colpa dell'eruzione del Vesuvio bensì per le conseguenze di una storica battaglia navale quella di Cuma che i greci vinsero contro gli etruschi e da quel momento Pompei è stata abbandonata prima dai propri cittadini quando poi arrivò l'eruzione del Vesuvio a cancellarla definitivamente ci spostiamo a Caserta bollettino ASL comunicato con i consueti canali istituzionali si segnalano nella giornata di ieri 171 nuovi positivi nonché 543 guariti e 3 deceduti il numero di tamponi processati è stato di 2385 per un tasso di positività in continua discesa che si ferma al 7,1% la città tra tutti i 104 comuni della provincia che fa registrare il maggior numero di positivi è Aversa con 585 seguita da Marcianise con 568 e Caserta con 464 chiudiamo con il calcio il Napoli di Gattuso vince in rimonta contro la Sampdoria e si conferma al terzo posto in classifica insieme alla Juventus a meno 4 dalla vetta occupata dalla Milan bloccato in casa San Siro dal Parma con il risultato di 2 a 2 allo stadio Diego Armando Maradona a decidere la partita sono state le reti dei subentrati Losano e Petagna che hanno risposto al gol iniziale della compagine ospite di Iancto Gattuso a fine partita ha elogiato i suoi giocatori ha detto riprendere queste partite è particolarmente difficile faccio i miei complimenti ai ragazzi la Sampdoria è una squadra ben organizzata ha fatto un grande lavoro il tecnico Ranieri nel primo tempo siamo stati sterili ha detto il tecnico calabrese abbiamo svoltato nella ripresa Losano sta migliorando sta lavorando molto sulla testa ha detto il tecnico una sconfitta invece per la casertana falcidiata dal coronavirus che ha colpito sette tesserati della prima squadra i falchetti si sono comunque recati in trasferta a Palermo ma è arrivata una sconfitta al Barbera per 2 a 0 sul punto ascoltiamo le parole del tecnico Guidi e dell'attaccante Castaldo si chiaramente abbiamo avuto dei giorni difficili questo lo sapevamo però questa stagione è condizionata da questo maledetto virus che a questo questo giro ci ha colpito in maniera tremenda perché insomma sette ragazzi poi all'ultimo secondo non è stato facile non è stato facile assorbire il colpo però detto questo è stata una trasferta complicata però ecco la squadra sul campo ha speso ha voluto provarci fino alla fine abbiamo fatto delle cose buone delle cose negative abbiamo subito due gol secondo me evitabili però la squadra in campo ha messo il massimo di quello che che poteva mettere e quindi c'è da continuare a lavorare andare avanti risettare sperando di recuperare quanti più calciatori possibili perché siamo contatissimi e quindi vediamo aspettiamo nei prossimi giorni e cerchiamo di risettare tornare in fretta cercare di recuperare e giocare le prossime partite la squadra ha provato ha provato a giocare chiaramente con tutte le difficoltà del caso specialmente dopo il gol subito del primo tempo avevamo presso campo riuscivamo avevamo messo nella propria metà campo il Palermo avevamo anche costruito delle situazioni pericolose su falli laterali a muovere la palla velocemente insomma con Polito due o tre volte avevamo scondato con grande facilità sulla loro sinistra siamo mancati poi nell'ultima rifinitura sono quello più esperto ho cercato di dare un contributo anche nel dare tranquillità nel parlare posso solo fare i complimenti non per il risultato però per la prestazione perché comunque ripeto giocare con tanti con tanti con tanti uomini assenti è dura anche per il mister che ogni giorno ha uomini ha uomini contatti scoperto ogni partito infatti bisogna stringere i denti perché mercoledì c'è un'altra e abbiamo tantissima assenza anche oggi con l'espulsione di Bruschiazzo quindi sarà ancora duro però purtroppo è il momento questo e dobbiamo farci trovare punti anche se siamo qui giocati la mentalità ormai l'abbiamo acquisita facciamo quello che con il mister si prova sempre a giocare sappiamo che se si gioca a calcio è più facile far risultato però ripeto il mister è veramente dura anche domani negli allenamenti saremo contati e c'è sempre da inventare qualcosa però stringiamo i denti e cerchiamo di fare risultati in queste tre partite che poi chiuderanno l'altro su G e con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro PrimaTG l'appuntamento con l'informazione di Teleprima ritorna ora nel pomeriggio c'è l'edizione flash delle ore 18 da parte mia grazie per averci seguito e arrivederci